...a giocare in dieci uomini, ma è ancora Sosa a regalare uno dei suoi gol sinistro potentissimo sul quale Bucci non riesce a intervenire per Ruben Sosa e il quarto gol in questo campionato al trentasettesimo sembra essere tornato il bomber implacabile dello scorso anno ecco il missile di Ruben Sosa